musica salve a tutti gente sono casa 90 come c'è Alex Kaus e gli zombie ci stanno bloccando la porta che cazzo sta succedendo ci stavano bloccando la porta zia esci esci vai mica questi non hanno più neanche i polmoni non c'hanno niente proprio che muoce su merendina al momento no vorrei aprire a questo mazza regolare forse queste serate non lo so mazza del mio pene mazza regola non è tanto malaccio ma questa ok si continua qua sull'hotel mi ha detto se le foto nel fondo c'è qualcuno un calcio volante sto cercando di tagliargli la testa ok ce l'ho fatta perché si fa prima tagliandogli la testa comunque eravamo rimasti in questo hotel che è una missione principale abbastanza lungona principale perché a me piacciono le cose lungone esatto guarda come sono vestiti bene questi stessi eh questi sono vestiti benissimo sembrano dei nonni che stanno per andare in chiesa la mazzi per favore che non ho resistenza ah scusa ho mezz'ora lì cercando di decidere da solo bella patatina vecchia resistenza anche qua dentro cosa c'è roba per curarsi una batteria non mi rendi ricordarsi per riparare le armi cristo c'è successo c'è successo coltello da cucina non ti metti in mezzo non posso troppo passarti falcetto ma si da che ve inglese invadente non vi è molto invadente invalidante oh allora cosa facciamo stasera cosa fai tu eh non lo so vediamo dai 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 secondo me è meglio se diciamo dai vai no ma perché non vieni che problemi c'hai dai dimmelo se c'è problemi dimmi tento zombie invadente e tu direi minchia su dodo da un zombie come mai vattene in acqua vattene in acqua pam pam mi stanno picchiando zio molto anche aspetta un attimo che gli sto cricando zio mi stanno picchiando ho detto curati madonna grazie fammi uscire da qua zio anche a me stanno stanno ah puttane help vai dentro vai dentro l'acqua buttiamole dentro l'acqua che è fantastico stai dentro l'acqua bravo e questi annegano tanto dentro l'acqua quindi buttaceli e continua a colpirli sennò che non dita ahiaiaia ah minchia questi sono più forti ci puoi contare mi stanno ammazzando ricurati ok cerca di buttarli in acqua se riesci non riescono più a sollevarsi mi sa e quelli possiamo one shotare con l'ammazzo no basta che ce ne andiamo direttamente guarda non riescono a salire tanto puttana ti sto odiando muore martello stavano tutto ottiene c'è che la carne ho trovato carne ho trovato anche il tuo tuo cuore sta coglia acqua sotto oh ben energetica buono va bene un po' c'è un altro no alla finita tutto merendina ho trovato bravo i piccoli grande bottiglia d'acqua o nient'altro ok andiamoci dove si passa da qua c'è qua ci hanno dato un po' di di mazzotte si direi abbastanza un po' di mazzotte seminiamoci il dodorante che bello questo tempo si sta mettendo il dodorante esatto boh puttuzone boh buzzone eh 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 vale e poi mi sta un po' scattando con questo fumo un po' così molto carta d'identità ho trovato una carta d'identità oh guarda questo posto senza senza specchi ma ci ce ne vanno oh è anche un tipo nei bagni non avevano voglia non avevano voglia di programmare il riflesso dei personaggi mi sa la cosa più difficile del mondo in mangi ma non lo so oh guarda c'è gente degli spigliatori uno c'è anche una gambia mangiucchiata non so come faccio stare in piedi cadi o non cadi per cortesia che ti devo pestare la testa ti devo pestare la testa è un ordine cadi questa è meraviglia sembra di sì ok stiamo andando la parte giusta vero guarda che benedetto credo di sì levate comunque sì credo di sì dobbiamo salire qua sopra lasciali 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 sono sadico zio gli lancio sto coltello così aumento di livello dove è che livello sono? ottordici no quattordici ti ho recuperato grande attento che però è pieno di gente fermati lancia una moto qua davanti spostati eh bravo lanciamela addosso la moto che ci sono corpi che stanno ancora bruciando e ti brucia ai 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 stavo bruciando coltello questo lo prendo io ok che è più forte del mio l'importante è questo sempre one shot bitch ok non spaccare sta roba qua sotto dove dobbiamo camminare è casato cammino molto tranquillo ma non penso faccia spaccarle comunque ci provo? no non fa oddio si è spagata invece si è spagata ah no non si è spagata che ho sbagliato pensate a un hotel dove ci sono i pavimenti in vetro tipo morti dappertutto tutti i caderni no non fa romperla ci manca l'altro ah comunque qua spendendo soldi poi prendete i bevande energetiche a scoppio quante ne vuoi? aspetta che sta arrivando gente inventario pieno per cosa inventario pieno? io questo era il marito della vecchietta il marito della vecchia ok questo è morto resta a terra vecchia boomerang fammi boomerang oh ne ho rotto il vetro addosso aspetta il coltello è mio allora dobbiamo trovare l'amico di quel tipo nell'ascensore vero? exactly però non è nello che sia siamo tipo 5 minuti che stiamo girando qua ah è qua dentro che siamo un po' disorientati eh via eh via eh via bravo mazzaret hola non c'è nessuno che uomo sei? stronzo mi piace molto vorrei anche io andare in giro quando sto male sono ferito mangiare una merendina e riprendere un canto ma che cacchia c'è non c'è niente qualcosa per il dolore gli serve riesce a trovarlo presto vuole il kit con la morfina ah no vuole della morfina ok andiamo a andare dove? 21 metri quindi qua vicino ma ci sarà sicuramente ecco due stronzi ecco aspetta aspetta ah no no vabbè c'è solo uno di quelli più stronzi vabbè e' uno da siamo siamo cattivi quali come è diverso da un boomerang non me lo fa mai prendi il cotello da cucina va fammi il boomerang mi chiederei ficcato nella schiena oddio ahia mi ha colpito in pieno morfina trovata comunque ma prima dobbiamo ammazzare questo io direi di uscire da questa stanza piuttosto va zia 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 vai 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 ma c'è come tiè non mi fa il boomerang che palle vabbè ti è muore aia mi è quasi colpito ma non muore mai non muore cioè impossibile ah ti taglio il braccio aia mi ha picchiato quando quello colpisce più di una volta si incazza te lo da subito si appunto aia ma va cagare son praticamente morto speri che mi curo è possibile eh ti piacerebbe prendere oh ma cosa è sta roba un attacca panni fa prendere l'attacca panni ma non ci credo si è girato all'ultimo e mi ha dato un ceffone eh tu ti lamenti eh schiva schiva cos'è schiva schiva si è girato all'ultimo non vale un vento il tronico tiè lo stai colpendo lo stai colpendo lo stai colpendo lo stai colpendo oh mozzato non c'è più braccia io li faccio danno anche così tipo vedi mica li stai ficcando di tutto là dentro praticamente tiè boomerangli ha fatto grande ok ora andiamo a consegnare quel cacchio vicioso questo cosa ha soldi allora la morfina per te caro ken dove sei che anche nel guerriero se fosse che nel guerriero non sarebbe così a terra questa è vero raggiungi la camera di sicurezza vuoi raggiungerla raggiungiamola perché no raggiungiamo 100 metri che niente siamo o non siamo e guarda dove dobbiamo passare aspetta che mi prendo qualche bevanda energetica da qua non funziona madonna chissà se l'aprono la porta no mi sa di si ci passano attraverso vado e attivo la ah lo puoi attivare tu la furia pronto? boh come che si attivava? quella zetta tenendola premuto oh questo c'è una cosa in mano vai distruggili uuuuh uuuuh finca esplosi vai 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 avanti vai continua a correre vai falli fuori tu oddio qua dentro qua dentro ahia madonna zio mi hanno mi hanno qua dietro qua dietro ahia eh zio aspetta sto ammazzando questo torno subito devo curarmi oh quanti e te l'ho detto so stronzi ti è mi chiesto sono scompatissimo scusami un po pam 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 morti e' tutte queste befonde a terra ah però si toglie ti mi ha fatto sprecare la furia madonna seppre ma le palle uuuuuh guarda uuuuh guarda le befande a terra uuuuuh e' allega la furia che tentavo di uccidere ma non è fosse non è possibile non è come cosa speaking errori pensavo che avessi passati no no si continua se tu sei un uomo, Walter te lo ricordi? tu sei un uomo, Walter allora Walter però mi ricordo anche Breaking Bad attento ho visto dopo anch'io ok, non l'avevo minimamente visto andiamo verso il co 50 metri, aspetta che ci deve essere qualcosa da dare cerco non c'è qualcosa da bere a bico no vabbè non mi sembra servire neanche roba da bere per adesso da terra ma che sta sento rumore, sento rumore, ecco ti qui brutto stronzo lui ne avevi anche uno dietro però te lo sei lasciato sfuggire tirapugne ford win ti è, ti è, ti è, ti è, morto questa cos'è? Merendina, merendina perché questa c'è una mazza in mano vabbè, no don oh 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 ma da fai bam minchia, 1200 di don allora vediamo cosa c'è succo di limone ho raccolto io sto aprendo tutte le porte dei bagni sperando ci sia qualcosa di interessante in cosa ho qualcuno ho qualcuno anche magari c'è una bella sopravvissuta ma non penso guarda come spacca i vetri e il caso nelle risse vai I kill you mother fucker questo è un risse guarda guarda sono stanco ultimo colpo no, li hai dato tu, vabbè ok, guarda lo schiacciato che manca poco, manca sa che siamo praticamente arrivati esamina e queste questa cosa camminatore livello 14 quelli restano qua non sanno come entrare pure c'è un buco enorme distruggendo tutti i vetri nella piazza se aspetta che questo lo cari si pensa molto figo voi che vado di molotov sono quei due basta e ce li amazziamo ma va ce li amazziamo le molotov conservatori per gli assassini in 2 vai in corsa ma qua come me li faccio io in corsa puf 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 soprattutto sta roba stanca troppo non devo prendermi niente di troppo stancante qua però farebbe ad aprire te no forse no forse no forse no siamo arrivati alla sala sala di controllo giusto no sali qua sopra siamo arrivati ma così si è sempre dalle parti sbagliate no vieni qua sto qui puoi fare il giro è tipo quel personaggio dei videogiochi che non puoi mai raggiungere e vedi ma non puoi mai raggiungere ma son qua va ok gente non so che cacchio di missione adesso è nato per l'aventura raggiungere la sala server ok dire che la sala server raggiungeremo nel prossimo episodio mettete tutti mi piace che riuscite ovvero uno a testa commentate iscrivetevi al canale e tutto quanto e ci vediamo presto qua di nuovo sull'altra avventura su the island scritto the island proprio attaccato the island the island è scritto ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti